Per non avere la muffa bisogna avere il deumidificatore. Buongiorno a tutti, oggi voglio parlare di uno strumento fondamentale che riesce a non far sì che arrivi la muffa alle vostre pareti di casa. Si tratta di uno strumento di fondamentale importanza chiamato deumidificatore. È uno strumento, ripeto, importantissimo perché permette di togliere l'umidità dalla vostra stanza, dalla vostra camera, dalla vostra casa, insomma, che dir si voglia, a seconda di dove lo andate a mettere, di dove lo andate a inserire. Ovviamente si va a mettere dove ci sono maggiori quantità di umidità, quindi può essere una stanza, uno sgabuzzi in una cantina e vedi seguito. Allora io vi consiglio però di prendere quale? Io vi consiglio di prendere l'umidificatore con il catino, quello che ha un catino davanti, trasparente, dove all'interno viene a confluire l'acqua, l'acqua che viene ad essere raccolta all'interno di esso e che poi può essere buttata via, ok? Non comprate, ed è un mio consiglio, questo ovviamente è quello che vi pare, i deumidificatori con i sali dentro, perché sì, sono efficaci, ma non sono secondo me efficaci come quello che è col catino, cioè che voi avete il catino sotto con tanto di acqua che viene ad essere ridolta, istraire il cassettino con dentro l'acqua e poi buttate l'acqua da qualche parte, va bene? Insomma, per farvela breve quindi il deumidificatore che dovete scegliere, secondo me, è quello fatto con il catino sotto, trasparente, dovevi avere raccolta l'acqua prodotta dalla vostra stanza, dalla vostra camera, casa e via di seguito. Beh, io vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, il video termina qua, iscrivetevi, commentate e una buona giornata a voi. Grazie.